capitolo 34esimo nel quale il signor rodolfo nickelby è visitato da persone che il lettore già conosce maledizione quanto tempo mi avete lasciato a suonare questa dannata vecchia teiera rotta di campanello che sull'anima mia farebbe con ogni squillo venire le convulsioni anche a un uomo di ferro maledizione disse a newman noggs il signor mantalini nell'atto che si fregava le scarpe sul raschiatoio di rodolfo nickelby il campanello ha suonato soltanto una volta rispose newman allora voi siete maledettamente terribilmente sordo disse il signor mantalini sordo come un pilastro d'inferno il signor mantalini era entrato frattanto nel corridoio e si dirigeva senza cerimonie difilato verso l'uscio dell'ufficio di rodolfo quando newman gli attraversò il passo e accennando che il signor nickelby non voleva essere disturbato chiese se volesse parlargli per un affare urgente maledettamente urgente disse il signor mantalini si tratta di convertire dei sudici pezzi di carta in oro di zecca lucido brillante sonante e tintinnante newman fece sentire un grugnito espressivo e prendendo il biglietto da visita offerto dal signor mantalini si diresse zoppicando verso la stanza del padrone facendo capolino alla porta vide che rodolfo aveva ripreso l'atteggiamento pensoso assunto alla lettura della lettera del nipote sembrava che egli l'avesse letta un'altra volta giacché la teneva di nuovo in mano aperta non fu che l'occhiata di un momento perché rodolfo disturbato levò il viso per chiedere la causa dell'interazione mentre newman rispondeva la causa entrava arditamente nella stanza e afferrando la dura mano di rodolfo con gran calore dichiarava di non averlo mai visto così bene in salute v'è come un fiore sulla vostra dannata fisionomia disse il signor mantalini sedendo senza farselo dire e ravviandosi i capelli e i baffi per l'inferno avete una cera così allegra e giovanile siete solo rispose duramente rodolfo che volete santo cielo esclamò il signor mantalini sfoggiando i denti che voglio sì benissimo che voglio per l'inferno che volete ho detto domandò rodolfo grave uno sconto della dannazione ribatte il signor mantalini con un sorriso escotendo comicamente il capo c'è scarsità di denaro disse rodolfo una maledetta scarsità se no non ne avrei bisogno interruppe il signor mantalini i tempi sono cattivi e non c'è troppa fiducia in giro continuò rodolfo io non voglio far affari appunto ora e veramente non ne faccio ma siccome voi siete un amico quante cambiali avete lì due rispose il signor mantalini per qual somma una bagatella di niente 75 sterline e la scadenza due mesi e quattro giorni le prenderò per voi badate per voi non lo farei per altri le prendo per 25 sterline disse rodolfo con risoluzione a maledizione esclamò il signor mantalini che allungò considerevolmente il viso a quella proposta ebbene ve ne rimangono 50 rispose rodolfo quanto vorreste fatemi vederle firme siete così terribilmente duro nickelby protestò il signor mantalini fatemi vederle firme rispose rodolfo stendendo impaziente la mano alle cambiali bene non sono di una sicurezza assoluta ma sono abbastanza buone ha consentite alle condizioni e volete il denaro non voglio che facciate così proprio non vorrei maledizione nickelby non potete cominciò il signor mantalini no rispose rodolfo interrompendolo non posso volete il denaro subito badate sull'istante senza che io vada in giro a fingere di negoziare con qualche altro che non esiste e non è mai esistito a fare fatto o no rodolfo così dicendo spinse delle carte lontano da sé e fece suonare lo scrigno come per puro caso il suono era troppo dolce per il signor mantalini egli accettò il contratto appena quel suono gli ferì l'orecchio e rodolfo gli contò subito il denaro il denaro era stato appena contato e il signor mantalini non l'aveva ancora raccolto quando fu udito uno squillo di campanello e immediatamente dopo newman faceva entrare nella stanza niente meno che madama mantalini alla cui comparse il signor mantalini mostrò un certo sconcerto e si affrittò a nascondersi il denaro in tasca con notevole alacrità ah sei qui tu disse madama mantalini scuotendo il capo sì vita e anima mia rispose il marito cadendo in ginocchio e inseguendo con felina agilità una sterlina caduta sono io qui delizia dell'anima mia a raccogliere questa maledetta moneta o vergogna di te disse madama mantalini con molta indignazione hai vergogna di me gioia mia lei vuol dirmi delle dolcezze ma ricorre a delle brutte bugie rispose il signor mantalini e non ha vergogna del suo diletto coccolo quali che si fossero le circostanze che avevano condotto a simili risultati il fatto sta che parve che il diletto coccolo avesse piuttosto calcolato male per quel momento la somma d'affetto della sua donna madama mantalini gli rispose con un'occhiata di disprezzo e volgendosi a rodolfo si scusò di quella visita tutta colpa disse madama mantalini della cattiva condotta e dell'indegnità di mio marito della mia condotta succo di melarancia della tua rispose la moglie ma basta io non voglio essere rovinata dalle stravaganze e dalle dissolutezze di nessuno io chiamo il signor nickelby a testimonio del metodo che adotterò a tuo riguardo per piacere non mi chiamate a testimonio di nulla disse rodolfo accomodatevela fra di voi accomodatevela fra di voi sì ma io devo pregarvi come d'un favore disse madama mantalini di sentire ciò che gli dico su quanto è mia ferma intenzione di fare per lui mia ferma intenzione signore ripete madama mantalini dardeggiando uno sguardo d'ira al marito mi chiama signore esclamò mantalini chiama signore me che la adoro col più infernale ardore lei che mi avvolge dei suoi fascini come un puro e angelico serpente assonagli calpesterà tutti i miei sentimenti e mi getterà in una condizione di inferno non parlate di sentimenti signore soggiunse madama mantalini sedendosi e volgendogli le spalle voi non considerate i miei io non considero i tuoi anima mia esclamò il signor mantalini no rispose la moglie e nonostante varie blandizie da parte del signor mantalini madama mantalini continuò a dir di no e lo disse anche con una credine così decisa e risoluta che il signor mantalini ne fu evidentemente sorpreso la sua stravaganza signor nickelby disse madama mantalini volgendosi a rodolfo che si era sdraiato nella poltrona con le mani sul dorso e contemplava l'amabile coppia con un sorriso di supremo e spietato disprezzo la sua stravaganza non ha limiti non me lo sarei mai immaginato rispose rodolfo sarcastico vi assicuro che così signor nickelby rispose madama mantalini una stravaganza che mi rende infelice io vivo in continui timori e in continua difficoltà e anche questo disse madama mantalini asciugandosi gli occhi non è il peggio egli stamane si è prese delle carte di valore dalla mia scrivania senza il mio permesso il signor mantalini cacciò un lieve gemito e sabottonò la tasca dei calzoni io sono costretta continuò madama mantalini a pagare alla signorina nag dopo le nostre ultime disgrazie una bella somma per avere il suo nome nella ditta e realmente io non posso permettermi di incoraggiar mio marito in tutte le sue dissipazioni siccome non ho alcun dubbio signor nickelby che egli sia venuto dritto dritto qui a convertire in denaro le carte di cui ho parlato e siccome voi ci avete aiutato molto spesso prima e siete legato con noi in questa specie d'affari desidero che conosciate la risoluzione che la sua condotta mi costringe a prendere il signor mantalini cacciò un altro gemito dietro il cappello della moglie e incastrandosi una sterlina in un occhio ammicò rodolfo con l'altro compiuto con grande strezza questo gesto si cacciò rapidamente la sterlina in tasca e gemme di nuovo con maggior contrizione io ho deciso disse madama mantalini scorgendo dei segni di impazienza sul viso di rodolfo di fissargli un assegno di far che gioia mia chiese mantalini che sembrava non avesse compreso di dargli disse madama mantalini guardando rodolfo e astenendosi prudentemente dal volgere anche un'occhiata al marito per tema che le molte grazie di lui dovessero farla vacillare nella risoluzione adottata di dargli un assegno fisso e io ritengo che con 120 sterline all'anno per gli abiti e i divertimenti egli possa considerarsi fortunato il signor mantalini attese con molto decoro d'udire la cifra dell'assegno proposto ma come laudì gettò il cappello e il bastone sul pavimento e cavando il fazzoletto diede sfogo alla sua ambascia con un lugubre gemito maledizione esclamò il signor mantalini scattando a un tratto dalla sedia e rimettendosi con grande irritazione dei nervi della donna a sedere con uno scatto simile ma no è un maledetto orrido sogno non è una realtà no consolandosi con questa assicurazione il signor mantalini chiuse gli occhi e aspettò pazientemente il momento di destarsi una disposizione molto giudiziosa osservò rodolfo con un sogghigno se vostro marito la osserverà signora come senza dubbio la osserverà maledizione esclamò il signor mantalini aprendo gli occhi al suono della voce di rodolfo è un'orrida realtà lei siede qui innanzi a me ecco il suo leggiadro profilo non si può sbagliare non ce n'è un altro che gli somigli le due contesse non avevano affatto profilo e l'ereditiera aveva un orribile profilo perché è così torturantemente bella che non posso addirarmi con lei nemmeno ora tu l'hai voluto alfredo rispose madama mantalini ancora in tono di rimbrotto ma rammorbidito io sono un dannato briccone esclamò il signor mantalini dandosi dei pugni in testa mi voglio riempire le tasche di 25 lire di spiccioli e annegarmi nel tamigi ma io non sarò in collera con lei anche allora perché imbuccherò una lettera per dirle dove sarà il mio cadavere lei sarà una bella vedova io sarò cadavere alcune belle donne piangeranno lei riderà maledettamente alfredo come sei crudele come sei crudele disse madama mantalini singhiozzando a quel terribile quadro lei dice crudele a me a me a me che per amor suo diverrò un maledetto un umido e un orribile cadavere bagnato esclamò il signor mantalini tu sai che mi si infrange il cuore soltanto a udirti parlare di una cosa simile rispose madama mantalini posso io vivere con la tua diffidenza esclamò il marito mi son tagliato il cuore in un immenso maledetto numero di pezzettini dandoli tutti via uno dopo l'altro alla stessa piccola seducente maliarda della dannazione per vivere circondato dal suo sospetto maledizione no non posso domanda al signor nickelby se la somma che ho detto non è equa ragionò madama mantalini non voglio nulla rispose il marito sconsolato non avrò bisogno di nessun assegno della dannazione io sarò cadavere a questa ripetizione della fatale minaccia del signor mantalini madama mantalini si torse le mani e implorò l'intercessione di rodolfo nickelby e dopo una gran quantità di lacrime di chiacchiere e parecchi tentativi da parte del signor mantalini di raggiungere la porta preliminare della diretta perpetrazione di una violenza contro se stesso il galantuomo fu con difficoltà persuaso a promettere che non sarebbe stato cadavere ottenuto questo gran punto madama mantalini discusse la questione dell'assegno e il signor mantalini fece la stessa cosa prendendo l'occasione di dimostrare che egli poteva vivere con sua gran soddisfazione di pane e acqua e andar vestito di cenci ma non poteva sopportare l'esistenza col carico suppletivo della diffidenza da parte dell'oggetto della sua più devota e disinteressata affezione questo fece sgorcare altre lacrime dagli occhi di madama mantalini i quali avendo appunto cominciato ad aprirsi su un po dei demeriti del signor mantalini si erano soltanto appena dischiusi e poterono facilmente richiudersi il risultato fu che senza rinunziare al suo proposito dell'assegno madama mantalini rimandò ogni ulteriore considerazione e che rodolfo vide con sufficiente chiarezza che il signor mantalini aveva ottenuto una nuova proroga alla sua sbrigliatezza per qualche tempo ancora a ogni modo la sua punizione e la sua caduta erano differite ma non sarà abbastanza presto pensava rodolfo ogni amore ma ricorrere al gergo dei ragazzi e delle ragazze è abbastanza volubile sebbene quello che ha la sua unica radice nell'ammirazione di una faccia baffuta come quella di questo babbuino duri forse più a lungo perché deriva da una maggiore cecità ed è alimentato dalla vanità intanto i gonzi portano grano al mio mulino vivano dunque la loro giornata che se sarà più lunga tanto meglio queste piacevoli riflessioni distrassero rodolfo nickelby mentre varie piccole carezze e vezzeggiamenti che non dovevano vedersi venivano scambiati fra i due oggetti dei suoi pensieri se mio caro non hai altro da dire al signor nickelby disse madama mantalini ce ne andremo già lo abbiamo trattenuto troppo a lungo il signor mantalini rispose prima di tutto col picchiare carezzevolmente parecchie volte il naso della moglie e poi con l'osservare che non aveva più nulla da dire per l'inferno questa cosa ho però aggiunse quasi immediatamente traendo rodolfo in un angolo c'è una faccenda intorno al vostro amico il baronetto mulberry una dannata incredibile straordinaria faccenda che intendete domandò rodolfo non lo sapete per l'inferno domandò il signor mantalini ho visto nel giornale che ieri sera è stato buttato giù dal carrozzino e gravemente ferito e che corre pericolo di vita rispose rodolfo con molta compostezza ma non ci vengo nulla di straordinario le disgrazie non sono avvenimenti prodigiosi per gli uomini che si danno molto da fare e si mettono a guidare dopo pranzo fece il signor mantalini con un lungo acuto sibilo allora voi non sapete com'è andata se non è andata come ho appunto supposto rispose rodolfo scrollando indifferentemente le spalle come per far intendere all'altro che gli non aveva alcuna curiosità al riguardo maledizione voi mi stupite esclamò mantalini rodolfo scrollò di nuovo le spalle come se non ci fosse nulla che potesse stupire il signor mantalini e diede una malinconica occhiata alla faccia di newman noggs la quale era apparsa parecchie volte dietro ai vetri dell'uscio giacché una parte del dovere di newman noggs consisteva quando c'erano dei visitatori poco importanti di far spesso mostra di credere che il campanello lo avesse chiamato per accompagnarli alla porta e così avvertire gentilmente i visitatori che era ora di togliere il disturbo non sapete disse il signor mantalini prendendo rodolfo per un bottone che non è stata fatta una disgrazia ma un maledetto tentativo di assassino compiuto da vostro nipote che mormorò rodolfo stringendo i pugni e diventando d'un pallore livido per l'inferno nickelby voi avete lo stesso cuore di tigre disse mantalini intimorito da quegli indizi continuate esclamò rodolfo furioso dite quello che avete da dire che è questa storia chi ve l'ha detta parlate disse rodolfo digrignando i denti capite dio nickelby disse il signor mantalini ritraendosi verso la moglie che infernale feroce istinto vi muove voi siete capace di spaventare a morte questa diletta anima mia e farle smarrire i suoi incantevoli sensi con l'accendervi improvvisamente di una collera così bollente e selvaggia che non se ne vede mai l'eguale per l'inferno oi boh soggiunse rodolfo con un sorriso stentato non è che apparenza è una dannata trista apparenza da ospedale di matti disse il signor mantalini raccogliendo il bastone rodolfo finse di sorridere e ancora una volta domandò da chi il signor mantalini avesse saputo la notizia da pike un bravo amico maledettamente simpatico rispose mantalini maledettamente simpatico e un furbo di tre cotte e che ha detto soggiunse rodolfo aggrottando le sopracciglia che è accaduto questo che vostro nipote che aveva incontrato il baronetto malberry nella sala di un albergo gli saltò addosso con una maledetta ferocia gli tenne dietro fino alla vettura giurando che lo avrebbe seguito anche se avesse dovuto aggrapparsi al cavallo o uncinarsi alla coda del cavallo gli ruppe la fisionomia che è una fisionomia maledettamente bella nel suo stato naturale spaventò il cavallo trascinò fuori della vettura il baronetto malberry e se stesso e e non è rimasto ucciso interruppe rodolfo con gli occhi raggianti non è morto mantalini scosse il capo ah disse rodolfo voltandosi allora non si è fatto nulla un momento aggiunse volgendosi di nuovo all'altro si è rotto un braccio una gamba si è slogate le spalle fratturato l'osso del collo fracassate un paio di costole si è risparmiato il collo per il capestro ma non ha riportato per il suo disturbo qualche dolorosa ferita lenta da risanare no non avete saputo questo almeno no soggiunse mantalini scotendo di nuovo il capo salvo che non sia stato ridotto a pezzettini così minuti da essere invisibili egli non si è fatto male perché è sparito comodamente tranquillamente come come una dannazione disse il signor mantalini alquanto impacciato a trovare un paragone e qual è stata disse rodolfo con qualche esitazione qual è stata la causa della disputa voi siete il più dannato e astuto sornione rispose il signor mantalini in tono ammirativo il più scaltro il più fine il più superlativo di tutti i vecchi volponi ha male di fingere ora di non sapere che è stato per la nipotina dagli occhi lucenti la più morbida la più dolce la più leggiadra alfredo si interpose madama mantalini lei ha sempre ragione soggiunse il signor mantalini carezzevole e quando dice che è ora d'andarsene è ora e se ne andrà e quando traversa le vie col suo caro fiorellino di marito le donne diranno con invidia che uomo maledettamente bello se preso e gli uomini diranno estasiati che moglie maledettamente bella se presa e sull'anima mia avranno tutti ragione nessuno avrà torto per l'inferno con queste osservazioni e molte altre non meno intellettuali e acconce il signor mantalini si baciò le dita dei guanti guardando il signor rodolfo nickelby e pigliando a braccetto la moglie la trasse elegantemente via così così mormorò rodolfo abbattendosi nella poltrona si è scatenato di nuovo quel demonio per molestarmi come è destinato a fare ogni volta egli mi disse una volta che un giorno presto tardi avrei dovuto fare i conti con lui non voglio che egli abbia profittato il falso e i conti glieli farò fare siete in casa chiese newman facendo improvvisamente capolino no rispose rodolfo con pari vivacità newman ritrasse la testa ma per mostrarla di nuovo siete sicuro di non essere in casa proprio sicuro disse newman che intende dire quell'idiota esclamò rodolfo con durezza lui aspetta quasi dal momento che gli altri sono entrati e può aver udito la vostra voce ecco tutto disse newman stropicciandosi le mani chi è che aspetta domandò rodolfo spinto dalla notizia presa e dalla provocante freddezza dell'impiegato verso un vivo scoppio di irritazione la necessità di una risposta si dileguò all'ingresso inaspettato di una terza persona quella di cui si parlava la quale puntando un occhio poiché ne aveva soltanto uno su rodolfo nickelby fece molti umili inchini e si sedette su una poltrona con le mani sulle ginocchia e i calzoni molto corti che indossava tirati tanto alti sulle gambe nello sforzo di sedersi da raggiungere quasi i risvolti degli stivali alla wellington è una sorpresa disse rodolfo volgendo lo sguardo al visitatore e quasi sorridendo mentre lo scrutava intento come non riconoscervi subito signor squeers a rispose quell'eccellente uomo e mi avreste riconosciuto molto più presto se non avesse passato tutto ciò che ho passato sentite fate di scendere il ragazzino da quello sgabello alto nel vostro sgabuzzino e ditegli di venire qui per piacere il mio caro amico disse squeers volgendosi a newman a eccolo qui che è disceso da sé mio figlio signore il piccolo walkford che ne dite signore come campione dell'alimentazione di dot boys hall non vi sembra che voglia rompere gli abiti e scucire le costure e far saltar via i bottoni con la sua grassezza questa è ciccia esclamò squeers facendo voltare il rampollo ed erede per stringergli con le dita le parti più adipose questa si chiama grana dura questa si chiama solidità scommetto che non riuscirete a pizzicarlo in nessuna parte per quanto il signorino squeers potesse trovarsi nelle migliori condizioni egli non godeva di una simile compattezza di carne perché come il padre a illustrare l'osservazione gli strinse nella parte più viva tra l'indice e il pollice e gli cacciò uno strillo e si sfregò il punto nella maniera più naturale bene notò squeers un po sconcertato io l'ho preso lama è perché abbiamo fatto colazione stamattina presto e lui non ha ancora mangiato perché quando ha mangiato non vi riuscirebbe di stringergli un pezzo di ciccia in una porta guardate quelle lacrime signore disse squeers con aria trionfale mentre il signorino walkford si asciugava gli occhi con la manica della giacca come se ci fosse dentro del grasso sta veramente bene rispose rodolfo che per qualche suo disegno particolare sembrava volesse conciliarsi il favore dell'insegnante ma come sta la signora squeers e come state voi mia moglie signore rispose il proprietario di dot boys hall è come sempre la madre di tutti quei ragazzi la benedizione la consolazione la gioia di quanti la conoscono un nostro allievo che si era ingozzato di cibo e poi si era sentito male fanno sempre così ebbe un ascesso la settimana scorsa veder lei come l'operò con un temperino oh signore dio disse squeers cacciando un sospiro e scotendo molte volte il capo l'onore che quella donna fa alla società il signor squeers si lasciò andare per un quarto di minuto a un'occhiata retrospettiva come se l'allusione ai pregi della moglie gli avesse naturalmente rievocato il tranquillo villaggio di dot boys presso greta bridge nel yorkshire e poi guardò rodolfo come in attesa che gli dicesse qualcosa vi siete rimesso dall'assalto di quel briccone chiese rodolfo appena in questi giorni appena in questi giorni rispose squeers io ero una sola contusione signore disse squeers toccandosi prima la radice dei capelli e poi la punta delle scarpe da qui a qui aceto e carta da imballo aceto e carta da imballo da mattina a sera credo di aver consumato addosso dal principio alla fine più di mezza risma di carta da imballo quando stavo tutto rannicchiato in cucina avviluppato dalla testa ai piedi sarei potuto essere scambiato per un grosso pacco di carta da imballo carico nient'altro che di lamenti mi lagnavo forte walkford o mi lagnavo piano domandò il signor squeers appellandosi al figlio forte rispose walkford erano addolorati i ragazzi nel vedermi in quella triste condizione walkford o erano contenti chiese il signor squeers in tono sentimentale con e esclamò squeers voltandosi vivamente addolorati soggiunse il figlio disse squeers dandogli uno schiaffo cava le mani dalle tasche non balbettare quando ti si fa una domanda non far quel chiasso caro nello studio d'un gentiluomo se non vuoi chi io abbandoni la mia famiglia e non ci ritorni mai più e allora che sarebbe di tutti quei cari e poveri ragazzi abbandonati per il mondo senza il loro miglior amico alle costole foste obbligato a chiamare il medico chiese rodolfo e già soggiunse squeers e mi mandò poi un bel conto tuttavia l'ho pagato rodolfo levò le sopracciglia in maniera da indicare empatia o stupore secondo l'interpretazione dell'interlocutore sì l'ho pagato fino all'ultimo centesimo rispose squeers che pareva conoscesse bene l'uomo con cui trattava troppo bene per supporre che potesse indurlo a pagare le spese della cura ma dopo tutto non ho pagato io no disse rodolfo neanche un centesimo rispose squeers il fatto sta che noi ai nostri ragazzi non facciamo pagare in più della retta che il medico quando serve e quando siamo sicuri dei clienti comprendete comprendo disse rodolfo benissimo soggiunse squeers quindi quando mi fu mandato il conto pigliamo cinque bambini figli di commercianti sicuramente solvibili che non avevano mai avuta la scarlattina e ne mandammo uno in casa dove c'era e lì la prese e poi mettemmo gli altri quattro a dormire con lui e la presero tutti e allora venne il dottore a curarli a uno a uno e così dividemmo il mio conto aggiungendolo a loro e facendolo pagare i parenti dei ragazzi anche una bella idea disse rodolfo squadrando furtivamente l'insegnante sicuro soggiunse squeers e ne abbiamo sempre quando mia moglie si mise a letto per il piccolo walkford qui facemmo pigliare la tosse asinina a una mezza dozzina di ragazzi e addossammo a loro tutte le spese comprese quelle della levatrice rodolfo non rideva mai ma in quell'occasione mostrò quanto più gli riuscì d'un sorriso e dopo aver atteso che il signor squeers avesse goduto a tutto suo agio dello scherzo professionale che gli aveva narrato chiese che cosa mai lo avesse menato in città una seccante faccenda giudiziaria rispose squeers grattandosi la testa un processo per ciò che dicono negligenza verso un allievo non so che vorrebbero e notate che gli ha avuto il miglior pascolo a nostra disposizione rodolfo guardò come se non comprendesse nulla il miglior pascolo disse squeers levando la voce con l'impressione che siccome rodolfo non comprendeva dovesse essere sorto il miglior pascolo a nostra disposizione quando un ragazzo si fa debole e malaticcio e non gusta più cibo lo mettiamo a una dieta speciale lo cacciamo fuori per circa un'ora ogni giorno nel campo di rape di un vicino o a volte se si tratta ad un caso delicato in un campo di rape e in uno di carote alternativamente e lo lasciamo mangiare a volontà nel paese non v'è terra migliore di quella ova era stato messo a pascolare quel maledetto ragazzo eppure lui non va a prendersi un'indigestione che so io e i suoi parenti non mi intentano un processo ora potreste mai immaginare aggiunse squeers agitandosi sulla sedia con l'impazienza di un uomo maltrattato che l'ingratitudine della gente arrivi a tal punto un brutto caso veramente osservò rodolfo non dite altro che la verità dicendo così rispose squeers io non credo che ci sia un altro che abbia come me tanta passione per i ragazzi a dot boys hall in questo momento vi sono dei ragazzi per una somma di 800 sterline all'anno se ne prendessi a trovarli per 1600 sterline non sarebbero tutti forse a 20 sterline l'anno amati da meno allo stesso modo vi trattenete sempre allo stesso albergo domandò rodolfo sì siamo alla testa di saraceno rispose squeers e siccome non manca molto alla fine del semestre continueremo a star lì finché non avrò raccolto anche il denaro dei nuovi ragazzi spero ho condotto con me il piccolo walkford appunto per mostrarlo ai genitori e ai tutori lo metterò in un annuncio questa volta guardate quel ragazzo un allievo anche lui è un prodigio di nutrizione scelta questo ragazzo mi piacerebbe dirvi una parola a quattro occhi disse rodolfo che per un po' aveva parlato ed ascoltato meccanicamente e pareva avesse meditato quante ve ne piace caro soggiunse squeers walkford va a giocare nell'altra stanza e non ti muovere troppo se non vuoi dimagrare e star male signor nickelby non avreste un paio di soldi disse squeers facendo tintinnare nella tasca della giacca un mazzo di chiavi e mormorando per dire che non aveva che tutte monete d'argento credo di sì disse rodolfo molto lentamente e presentando dopo aver frugato in un vecchio cassetto un soldone un soldino e una moneta di due centesimi grazie disse squeers dando tutto al figlio ecco va a comprarti una pasta l'impiegato del signor nickelby ti dirà dove e vada che sia grossa la pasticceria aggiunse squeers chiudendo la porta alle spalle del signorino walkford gli fa la carnagione lucente e i genitori credono che sia un segno di salute con questa spiegazione e un'occhiata particolare di commento il signor squeers mosse la sedia in modo da portarla più vicino e di fronte a rodolfo nickelby e dopo averla vista piantata come voleva vi sia da giù ora ascoltatemi bene disse rodolfo sporgendosi un poco squeers accennò pronto io non posso immaginare disse rodolfo che voi siate abbastanza stupido da perdonare o dimenticare così presto la violenza di cui foste vittima o la vergogna ad un simile affronto tutt'altro rispose vivamente squeers o da perdere l'occasione di ripagarvi ad usura se vi si presentasse disse rodolfo mostratemene una e vedrete soggiunse squeers è stata questa la ragione della vostra visita disse rodolfo levando gli occhi al viso dell'insegnante no non per questo rispose squeers pensavo che voleste darmi qualche compenso oltre quel po di denaro che mi mandaste esclamò rodolfo interrompendolo è inutile che continuate dopo una lunga pausa durante la quale parvi assorto in contemplazione rodolfo ruppe di nuovo il silenzio chiedendo chi è quel ragazzo che si è condotto con sé squeers disse il nome era piccolo o grande in buona salute o malato docile o ribelle dite bello mio ribatte rodolfo no non era piccolo rispose squeers cioè per ragazzo non era piccolo volete dire cioè che non era niente affatto ragazzo interruppe rodolfo bene rispose squeers con vivacità come se si sentisse alleggerito da quelle parole poteva avere circa 20 anni ma non pareva così grande a quelli che non lo conoscevano perché gli mancava qualcosa qui aggiunse toccandosi la fronte potevate picchiarvi quanto vi piaceva ma in casa non c'era nessuno e voi picchiavate spesso certo mormorò rodolfo piuttosto rispose squeers con un sogghigno quando mi scriveste accusandomi ricevuta di quel po di denaro come voi dite mi diceste che i suoi parenti lo avevano abbandonato da molto tempo e che non avevate la minima traccia il minimo indizio sulla sua origine è vero sì purtroppo rispose squeers facendosi sempre più disinvolto e familiare nei modi a misura che rodolfo muoveva le sue domande con minore riserva sono 14 anni come appare dal mio registro che egli mi fu condotto da uno strano tipo una sera di autunno e fu lasciato nel mio istituto mi furono pagate 5 sterline anticipate per un trimestre allora poteva avere un po più di 5 o 6 anni e che altro sapete domandò rodolfo mi dispiace molto poco rispose squeers il denaro fu pagato per 6 o 7 anni e poi non si vide più quell'uomo aveva dato un indirizzo a londra ma quando si andò a cercarlo nessuno ne sapeva nulla così tenne il ragazzo per per carità suggerisse camente rodolfo per carità certo rispose squeers sfregandosi le ginocchia e quando egli cominciava in un certo modo a essermi utile ecco che viene quel briccone di un nickelby a portarmelo via ma la parte più seccante irritante di tutta la faccenda si è disse squeers abbassando la voce e tirando la sedia più da presso a rodolfo che finalmente intorno a lui sono state assunte delle informazioni non presso di me ma così all'ingrosso presso la gente del villaggio di modo che appunto quando forse avrei potuto aver saldati tutti gli arretrati e forse chissà cose di questo genere sono avvenute altre volte nel nostro mestiere pigliarmi qualche regalo per impiegarlo in qualche azienda o per mandarlo al mare in modo che non potesse più disonorare i parenti nel caso egli fosse stato un figlio naturale come molti fra i nostri ragazzi ecco che me lo sottrae quel furfante di un nickelby vuotandomi le tasche come un grassatore di strada maestra non passerà molto che gli renderemo la pariglia disse rodolfo mettendo la mano sul braccio dell'insegnante del yorkshire la pariglia esclamò squeers oh gli vorrei lasciare un po di credito da saldare a comodo mi augurerei soltanto che capitasse fra le unghie di mia moglie che dio la benedica lo ammazzerebbe signor nickelby lo ammazzerebbe come si mangia un boccone ne parleremo un'altra volta disse rodolfo mi ci vuole un po di tempo a pensarci ferirlo nei suoi affetti e nelle predilezioni se potessi colpirlo attraverso quel ragazzo colpitelo come vi piace caro interruppe squeers soltanto dategli forte ecco tutto e con questo vi dirò buongiorno ecco spiccate il cappello del ragazzo da quel piuolo e fatelo discendere dallo sgabello per favore gridando queste richieste a newman hogs il signor squeers si diresse nello sgabuzzino dell'impiegato e mise il cappello in testa al fanciullo con paterna ansietà mentre newman con la penna dietro l'orecchio se ne rimaneva rigido e immobile sul suo seggio guardando ora il padre e ora il figlio con un'occhiata di basilisco non è un bel ragazzo disse squeers spostando un po la testa di lato e ritraendosi innanzi alla scrivania per valutar meglio le proporzioni del piccolo walkford molto disse newman guardate com'è paffuto continuò squeers non vi pare che abbia la carne di venti ragazzi ah rispose newman con la faccia contro quella di squeers si la carne di venti di più se l'è presa lui quella degli altri dio aiuti gli altri signore dopo aver pronunciato queste osservazioni frammentarie newman si chinò sulla scrivania e si mise a far correre la penna con meravigliosa rapidità ebbene che dice costui esclamò squeers facendosi rosso è ubriaco forse newman non rispose è matto disse squeers ma siccome newman continuava a comportarsi come se si trovasse perfettamente solo squeers si consolò dicendo che quegli doveva essere ubriaco e matto e con questa osservazione finale condusse via il suo speranzoso rampollo a misura che rodolfo nickelby ebbe la coscienza di una vaga albeggiante simpatia per caterina l'odio che sentiva per nicola andò aumentando forse a compensare quella sua debolezza verso una persona giudicava necessario odiare un'altra con maggiore intensità di prima certo questo era lo stato dei suoi sentimenti e ora il fatto d'essere tenuto in diffidenza e in dispregio d'essere rappresentato coi peggiori colori e i più ripugnanti di sapere che si insegnava alla fanciulla a disprezzarlo e a odiarlo che le si diceva che si sarebbe infettata a toccarlo macchiata a stare in compagnia di lui il fatto di saper tutto questo e di saper che il motore di tutto era quel ragazzaccio suo parente povero che gli aveva tenuto testa fin dal loro primo colloquio e da quel momento gli si era messo apertamente contro sfidandolo spinse a tal grado la cheta e sorgnona malignità di rodolfo nicelbi che non vera quasi nulla che gli non avrebbe avventurato per assecondarla se avesse potuto cercare la via ad una immediata rappresaglia ma fortunatamente per nicola rodolfo nicelbi non la trovò e benché almanacasse tutto quel giorno e tenesse pure fra mezzo tutto il giro di progetti e di affari coi quali dovette occuparsi un angolo del cervello a lavorare ansioso su quell'argomento la notte lo trovò infine ad affannarsi sullo stesso tema a mulinare le stesse infruttuose riflessioni quando mio fratello era come lui disse rodolfo e venivano fatti i primi paragoni fra di noi e si risultavano sempre sfavorevoli a me lui era sincero generoso gentile allegro io uno scaltro volpone dal sangue freddo e stagnante senza altra passione che quella del risparmio senza altra sete che quella del lucro me ne ricordai la prima volta che vidi questo ragazzaccio ma ora me ne ricordo meglio egli era stato occupato a stracciare la lettera di nicola in minutissimi pezzi e mentre parlava li sparse in sottile pioggia d'intorno ricordi come questo continuò rodolfo con un amaro sorriso mi si addensano in folla intorno quando io li secondo e da innumerevoli punti siccome una parte di mondo affetta di disprezzare la forza del denaro io debbo provarmi a dimostrare ciò che vale ed essendo a quel punto piacevolmente disposto a schiacciare un pisolino rodolfo nickelby se ne andò a letto grazie a tutti grazie a tutti